Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì 9 maggio avremo ancora tempo instabile temporalesco al sud, in particolar modo sul versante tirrenico, mentre sul lato adriatico tornerà un po' di sole e quindi avremo un graduale miglioramento. Difatti la depressione responsabile di tutta questa instabilità di questi ultimi giorni tenderà pian piano ad attenuarsi e a ridurre non solo le sue dimensioni ma anche la sua forza. In Abruzzo inizio di settimana più stabile, soprattutto al mattino ci aspettiamo cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio tornerà un po' di instabilità nelle aree interne, quindi prevalentemente in montagna lungo l'Apennino. Avremo qualche rovescio, qualche temporale ma nulla di particolarmente persistente. Non escludiamo tuttavia qualche isolata grandinata o anche qualche forte pioggia. Più variabile, più stabile lungo le coste dove avremo cieli prevalentemente poco nuvolosi. Le temperature tenderanno a salire ulteriormente massime fino a 20 o 21 gradi. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.